Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come potete ben vedere nelle impostazioni di questo video, è stata sbloccata una nuova possibilità di qualità. Finalmente c'è il 4K, tutto questo dato da un upgrade che sognavo di fare dall'inizio dell'apertura di questo canale. Purtroppo non è stato possibile perché, diciamo che quest'upgrade costicchia un pochino. Finalmente, dopo tanto tempo, mi sono potuto permettere di fare questo passo e l'ho fatto ben volentieri, dato che è un qualcosa che mi permetterà di esprimermi al massimo, di esprimere la mia creatività e tutto quello che c'è dietro questo mondo. Come sapete per me è una passione incredibile, quindi lo faccio ben volentieri, nonostante non sia una spesa da poco. Ma adesso andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Grazie a tutti. Ebbene sì ragazzi, stiamo parlando della Panasonic Lumix S5. È una macchina che a dir la verità non avevo mai adocchiato, perché non puntavo a Panasonic come mia futura camera. Però sono stato aiutato da un mio carissimo amico e quindi nulla, ho deciso di fare questo acquisto. Attualmente non me ne sono ancora pentito, quindi buono, anche perché la sto usando da pochissimo, però tanta tanta roba. Ovviamente vi lascio il link di Amazon qui sotto nel caso in cui voleste acquistarla e vi garantisco che nel momento in cui andreste a fare questo acquisto non ve ne pentirete assolutamente. Ovviamente bisogna un attimo averne delle esigenze più lavorative che altro. Io infatti non l'ho fatto soltanto per YouTube, perché come sapete la situazione con YouTube non è proprio il massimo. Ma lasciando stare questo io continuerò a caricare contenuti su questa piattaforma perché, lo sapete, a me piace farlo. Detto questo, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, molto breve, era giusto per informarvi di questo nuovo upgrade e di conseguenza di tutte cose nuove che arriveranno su questo canale. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel pollicino in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!